Salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video di Minecraft della Progetto S3 Bene, andiamo a fare il continuo del bisogno precedente Questo pezzo per tutte le cose che mi servivano Questo abbiamo la farm, questo abbiamo la farm Questi si fanno facili, avevamo già un sacco di pezzi da parte Ma comunque si fanno facili Questi li avevamo fatti al tempo una vagonata e mezzo Questi si fanno facili o facili, così, che è proprio una cacata Questi si fanno facili o facili, così, che è proprio una cacata E basta, tutto qua, andiamo a farlo Ne vuole altri due ausiliari E dovrebbe essere a posto Però manca la bacchetta magica Che non so dove cazzo ho messo Cos'è questa illumination? No No, non è neanche questa E questa qui, ok Togliamo un attico qui e mettiamo questa Quindi aspettiamo la notte perché ovviamente A me mi serve la notte Quando mi serve la notte c'è sempre il giorno E quando mi serve il giorno c'è sempre la notte Vai, è sempre giusto, dai Allora, dove l'ho messa? Dove hai messo i costi che fanno diventare notte? Eccolo qua Manno vuota Mettiamo via un po' di roba Scusatemi So che sono una palla Aspettate, mettiamo via anche questa e questa Ok Manno è la vuota Tac A posto Guarda Quanto manca? Ci sei Perché tu non va? Adesso una vuota Adesso devo ricordarvi perché questo non va Perché tu non va? Questo non va bene? Fatemi vedere Perché io devo anche capire E qui deve andare così Non va Non va Ah forse devo stare in un'altra parte Fatemi vedere No, in questo qui L'idea scende al tar L'idea scende al tar E non va Vabbè Ci vediamo dopo Allora Allora dobbiamo fare la costellazione Octans Ecco perché non funzionava E dobbiamo metterci il cristallo Qua Se no non va Ok Perché ci vuole questo tipo di costellazione qui Per farlo andare Non lo sappiamo Se l'ho dovuto informare Comunque l'Octans L'abbiamo vista E questa qua Insomma Vedete E questo Io l'ho preso dal tomo Adesso lo rimetto dentro Scusate ma Purtroppo non lo sappiamo Se l'ho dovuto informare Adesso quando questo farà il cristallo Grazie a quello Lo mettiamo Qua dentro E lui Ecco Ha fatto il Che Ok Vediamo un po' Lo sostituiamo A questo E infatti viene Vedete Eh mi sembrava strano Che non funzionasse Comunque l'ho già messo I due pezzi qua Dovrebbe Perché tre Non dovrebbe essere tre Comunque vabbè Va Dovrebbe funzionare Speriamo bene Perché io ho fatto Tutto quello che mi ha detto Oh cavoli È stato un bel Da fare Adesso questo Lo togliamo un attimo Eh no L'ha messo Accidenti a me Eh abbi pazienza Sì ma vado lo stesso Dovrebbe andare Perché me l'ha fatto vedere Quindi insomma Nel senso Speriamo bene Dopo ci salutiamo Non adesso Eccoci qua Eh otto Me le devi fare Cazzo però Dove Forse Ma c'era anche scritto Magari non me ne sono accorto io Nel senso Però Piano piano Adesso lo farà Vabbè Ci vediamo dopo Non sto a annoiarvi Ok fatto Mamma mia Che fatica Eccoci qua Allora io adesso Questo lo rimetto qua E questo ci metto Una cesta Così siamo a posto Almeno così Non mi sbaglio Ok Eh cavolo È stata dura Capirlo Scusate Ho fatto la cacata Vabbè Sono contento Ok Questo va qua E questo Va qua Così almeno mi ricordo Faccio così Così almeno mi ricordo Che ci va questo Allora Cominciamo a mettere Via un po' di roba Perché già non ci sto capendo Più una mazza Questo Questo via Questo dopo lo metto via Questo Questo lo metto qua Perché Scusate ma Se no Faccio casini Mettiamo via tutta la roba Perché Non voglio far casini Perché dopo Sapete che io Sono un casinaronato Vediamo qua Mettiamo via anche questi E siamo a posto Allora Andiamo alla Strassossi Speravo di non doversi più andare Alla Strassossi Invece sono dovuto andarci Vabbè Ecco qua Sette No questi qui non sono Sono qui Questi qui C'è boi Sempre sono uno sprinto Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Oh non ci credo Sono contentissimo Via questo Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Poi vediamo Allora ci manca solo Una cosa Che sono questi Allora questo lo possiamo togliere Questo qua Che per far questo Ci vuole questo qui Che adesso non lo so Comunque sia Dobbiamo fare anche No ho sbagliato Scusate ho messo una cosa Per un'altra Eccolo qua Dunque dov'è Questo lo dovevo mettere Ho messo quello Ma porca vacca Ok dobbiamo fare Queste qui Allora queste qui Dove le trovate Adesso non mi ricordo più Dovrei averle messe qua Perché di solito Non ho messo un cazzo Non ho messo Scusatemi Dove l'ho messo L'ho perso Porca vacca Allora vediamo Se ho messo qualcosa Qua nella blood Ma dubito No non abbiamo niente La blood magic Blood Così Due o Non è che ci scappiamo Ah perché mi ha messo Questo qua Ok Niente Mi tocca farli Vabbè facciamoli Insomma Nel senso Ecco Ovviamente È tutto Tutto Con catenato Lordcraft Mi sono perso La Lordcraft Eccola qua Prendiamo Sto bidono Qua Poi Diciamo così Diciamo così E tanti saluti Così almeno Ma lasciamolo dentro Il sistema Adesso Andiamo Un attico L'anti dimension L'hunting Insomma La dimensione Dei cacciatori Qua E facciamo La nostra cacata Allora Posto Facciamo così E cerchiamo I nostri Amici Eccolo qua Questo qui va più che bene Togliamo sto coso Eh la miserica Ok Ah questo no Eh ok Vai Perfetto Uno è fatto Io ne farei più di uno Perfetto Aspettiamo un attico Aspettiamo un attico Vai vai Fai fai Uno solo Accidenti A me Accidenti Ok Ok Vediamo se Un altro Ancora Ok Ce l'ha dato Quindi tre Qui non ce l'ha dato Eh c'è un po' da divertirsi Adesso l'ha preso Va Va a capire Ok Vai 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 Ok Ne ho presi un po' Adesso magari Questo era quello Bartoriato No non era lui Ah questo qua Scusate Tac Ok Ne ho presi quattro Mi può andare anche bene Via A casa Così a meno Siamo a posto Mettiamo la roba Nella mod Nella cassetta Perché se no Faccio casini Eh Di Cua Mamma mia Eccoci qua Il golem è ancora qui Che ci saluta Con la manina Eccoci qua Quindi mettiamo questi Ne ho fatti quattro Dai non è malo Adesso mettiamo via un po' di roba Qua 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 Quando Mettiamo via anche questo Questo Eh Dove mettere via anche questo Ma nella mod Lo metto qua dentro Ok Questo lo mettiamo qua Oh Abbiamo sistemato un pochettino Poi Allora Questo lo togliamo Eh Scusate Ecco qua Così almeno siamo a posto Funziona Adesso funziona Perché Perché avevo fatto la mia cacata Perché se non faccio una cacata video La volta che di più Non sono mai felice E quindi avevo fatto la mia cacata Avevo messo 90 Devo mettere uno Quindi da un blocco di altezza A 100 E quindi siamo a posto Un raggio L'altro è troppo alto Devo andare a 90 blocchi Ecco perché non funziona E adesso abbiamo In generazione 3 Beh adesso è un contento Adesso funziona Vabbè Pazienza Ormai è andata Dopo che ci sono scattate Tanti coglioni Allora Cosa Dovemmo fare Adesso Dovemmo fare Togliamo questo Togliamo questo Dovemmo fare questo Il L'elfire forge Ok Dovemmo fare questo Che si fa Con il Selling crystal Che il Selling crystal Si fa Con queste cose qua È un Ma dovrei avere Ma porca vacca Dimentico sempre le cose Io Se non ho fatto così Non ci potete fare niente Vediamo un po' Rossi ce l'ho Ok Vediamo un po' Se riusciamo a farlo Vai Vai Ovviamente C'è qualcosa Che non guarda Perché io Non leggo Non guardo Non sono Un po' Distratto Qui Ci va Qui c'è troppa roba Comunque Per che tolga Un po' Di roba Perché ne ho messa Troppa A fare Ovviamente Io faccio sempre Cacate E non sono mai contento Se non le faccio Allora Togliamo tutto Questo Anche questo Questo Qui Questa roba Che per adesso Non ci serve E stavamo dicionando Che non mi ricordo Già più un cazzo Sono contento Allora la stone Credo Voleva la stone Ci ho guardato adesso Insomma Nel senso Una stone Normala Quindi la stone Vediamo un po' Una stone Normala Una stone Normala Io posso Prendere questo E posso Prendere questo Perché io non ho capito Quello che cazzo Voglia Però insomma Qua Facciamo questo Facciamo questo E siamo a posto E questa è fatta Poi Cos'altro vuoi Vuoi questo E vuoi questo Ovviamente manca un sacco di roba Facciamo così Facciamo così Facciamo così E abbiamo anche questo Che ci servirà E era anche una questa Andiamo a vederla Perché Volevo mettere in generazione Ma poi finalmente Ho sbloccato Sono al posto Omicron Doveva essere Non ancora Quanto pare No Dove cacchia Chi era o la era Sigma No Tau No Non lo so Da qualche parte Vabbè L'importante è che Che vada Insomma Nel senso Per me era qua Però insomma Non la vedo Sono cecato E quindi Quindi abbiate pazienza Va bene Andiamo pure A Cap Così siamo a posto Tac Ok C'è poi Ha preso uno spinto E niente Questo lo devo mettere via Ovviamente Io sono sbadato Mi scordo sempre le cose E ci facciamo niente Allora Questo ci servirà Poi Per fare Una cosa Allora In mezzo Dov'è Qua Mettiamolo qua Così Non più voglio I marroni E qui abbiamo Le nostre recipe Per fare Varie cose Vediamo Un po' Tra cui Il cristallo E che era qua Il cristallo Per fare Ok A posto Questo è una cosa fatta Poi Cos'altro dobbiamo fare Per fare questo Usa Per Praticamente Per riparare Adesso vi spiegherò come Appena lo capisco Chi Allora Togliamo questa Tanto l'abbiamo fatta E siamo a posto Allora Dobbiamo mettere La nostra Cosa qua Perfetto Qua Così andrà A caricare Sì Andrà a caricare Però devo anche Trovare Questa cazzo di cose Come si fa Qua Allora Vuole Il bianco La resto Il cazzo di cose Va bene Ok Per cosa la volta Allora Resto E qua E' a posto Poi ci vuole La Dai Che non mi ricordo Il bianco Quindi il bianco Facciamo così E tanti saluti E siamo a posto Un bianco qualunque Penso questo Ma questo è grigio Adesso lo trovo Light grey Ancora questo Light grey Dove cazzo Il bianco Cosa vuoi di bianco White dye Eh il white dye Volevi Questo è il white dye Quindi non lo fai Adesso fammi capire Scusa Vediamo un po' Non lo vedo io Vabbè Lo faccio il white Nel senso Vedo il bombile Ma fa culo Però insomma Buone Eccolo qua Vabbè E questo qui Spero basti Poi Non me lo dice Che ci vuole Il white Fatemi vedere Ah si bombile Ok Un coal E una gunpowder Allora Coal Coal Ok 444 E gunpowder Eccolo qua Perfetto Vai Esatto Sta caricandosi Perfetto Andata alla grande Bene E questo Ci servirà Dammi la quest Quest C'era una quest Ne sono quasi sicuro Della broad magic Che c'era la quest Poi ovviamente Faccio le caccate E la pacata Insomma Nel senso Ma noi abbiamo fatto Quello il libro Sto pensando Sto pensando Che sto pensando Che sto pensando Ah è questa Questa è Un'altra cosa Scusatemi Mi sono perso Questo che cazzo è Allora Questo qui È la cosa È la bissa Mi sono confuso Scusate Ma porca vacca Eh vabbè Noi dobbiamo fare Quell'altra Che è questa Qui Ecco Mi sono proprio perso Allora Ed è qua Infatti Tu non me l'hai data Per qual motivo Arcane Ash Incompleta Arcane Ash Perché tu non dà Eh porca vacca È completa È completa È che cazzo Mi sembrava strano Oh Mi sembrava strano Dice Prendi Leggi nel sanguin Mi disse Porca vacca Vabbè E questa è fatta Adesso Vi spiego come funziona Appena mi informo Allora Se non ho capito malo Pulsante destro per terra Ok Riparata Dovrebbe essere così In teoria Dovrebbe riparare Cose Io riparo già di mio Quindi insomma È anche fatica Vabbè Allora Una piccola correzione Quelli brick Non erano brick Questi qua Ma erano gli Ash Che si fa con l'Ash Purtroppo Non lo sapevo Scusatevi È tutta colpa mia Adesso però Andiamo a sostituire E questa qua Dopo vi spiego C'è per fare dei rituali Insomma Per fare delle cose particolari Vedete Con questa e questa Lui trasformerà questa Poi dopo si fanno Con altre cose Però per dire Questa con questa Si trasforma in questa Scusatemi Mi informo Perché non è facile Sono tutte mod nuove per me Allora Andiamo a sostituire Il Cordo La Cordo del Coast Qui Dove che Devo darmi Sono perso Ma porca vacca Porca vacca Ok Quindi vanno tutti sostituiti Perché vanno Le Ash And Brick Da quello che ho potuto capire Insomma Nel senso Quindi Con tanta pazienza Scusatemi Non avevo capito bene Sì E questo Lo stesso Ok Vabbè L'importante È aver aggiustato il tiro Poi dopo sapete Io Non so mai contare Quindi Ovviamente Qua ce ne varranno di più Ma tanto non è un problema E siamo a posto Poi Adesso sostituiamone un attico Abbiate pazienza A meno così vedete Mi spiace Di aver sbagliato Ma Insomma Sono un esso romano Insomma Tutti sbagliano Ecco qua 3 1 2 3 Qua mettiamo a posto Opla Ecco qua Ok Adesso ha più senso Insomma Nel senso Vabbè Questo è facile Basta fare così Ok Perfetto Vai così Oh dai Almeno così siamo a postolo Eh Vabbè Capita Sbagliare È normale Ok E lì così Perfetto Sabe Se non potrebbe morire Ho avuto un po' Cazzola Scusi Non so Infine Sempre lì rompo i baroni Perfetto Ottico Vai Dai che abbiamo finito C'è quasi Insomma Nel senso Ma porca vaca Non è fatta una dritta Eh vabbè Se non faccio un fail a video A volte anche più di uno Eccoci qua Poi scopo che Avevo fatto bene E mi viene un colpo Allora Ci mancano Due tre cosine Almeno così siamo a posto Ecco qua Uno qua Uno qua E tac Vabbè dai Così è più senso Nel senso Nel senso Ok Ovviamente non bastano Perché io non so mai contare Eccoci Ah fantastico Ho fatto la mia bella cacata Ed è solo pacata Eh vabbè ci vuol pazienza Come lo sapete Sono fatto così Allora Uno Due Tre E quattro Almeno questi Vanno bene Poi Riprendiamole Un altro po' Adesso lo faccio con voi Perché dai Sapete che io A cacate Sono veramente un genio E quindi per adesso Mettiamo questo qua E facciamo così Ok Così Questo lo togliamo Perfetto Cosa manica Beh direi che Abbiamo fatto tutto Oh cavoli Ah no Questo 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 Mancava Porca vacca Mancava Questo Eh che cazzo Eh vabbè È andato così Ok Adesso mancano solo Quelli sopra Mi informo bene Su come si fanno E arrivo Intanto vorrei fare Un po' di questi Che ci sono Poi dopo Vediamo Mi informo bene Su come servono Eccetera Proviamo a vedere Come si fa questa Questa si fa Questa abbiamo fatta Con Vabbè Facile Questo 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 E tanti saluti Nelle Five Forge Ok Adesso li prendo Tutte queste cose Allora Lapis E siamo a posto Lapis Uno Vai Perfetto Poi E questo Via Poi Vabbè Un glass Normale Non penso sia Troppo Chiedere troppo Insomma Un glass Normale Ok Perfetto Questi possiamo Mettere via Poi Poi Un redstone 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 Perfetto E un gold Gold Perfetto Oddio È ormai È quasi Esaurito Però L'abbiamo Fatto Ok Qualità Zero Proprio Una merda Vabbè Già Un suo Contenere Little Wheel Qualità Ok Va bene Poi dopo Dobbiamo fare Adesso Vediamo cosa Ci dice Perfect Lui ci dirà Leggi il libro Perché non ho voglia Di scrivere qua sopra Perché è troppo lungo Questo è il succo Va bene E poi dopo Dobbiamo fare questo Questo E poi questo Però questo Mi ti dressa Già di più Cosa dice Scusate Non ho letto Leggi perché è difficile Escrivere qua Quindi leggi il libro Allora Qua Ci vuole la sardina È una spada E una di queste Ok Vediamo se ho capito Perché come al solito Non avrò capito un cazzo E quindi facciamo così Vediamo un po' La spada Ok Facciamo così Facciamo così E siamo a posto Quindi così Così No Così No Così Ok Mi sono già dimenticato Perfetto Mi sembra giusto Basta Solo così No Se andrà questa Dai Esatto Non so che cosa Verrà fuori Però insomma Ok È venuta Quasi non ci credo Perfetto Così è venuto La spada Lo devi segnare Però io l'ho fatta Cioè nel senso Ok E anche questo Usa Demo La porta Contenere 520 Non è male Non è male Fa un cazzo di danno Però insomma Caccio nelle palle Che quello fa solo malo Ok Intanto le ho fatte Nelle altre Di queste sciade Vi faccio vedere Perché Allora Mettiamole qua Intanto questa Mettiamola qua Posso anche tenermela E vi faccio vedere Prendiamo un attico Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così E Si sta caricando Perfetto Ok Adesso andiamo Nell'anti dimension Vediamo un po' Haunting Ok E vediamo se Ho capito Qualcosa Di qualcosa Vai Vediamo un po' Se ho capito bene Non voglio dire cacate Lo sapete che Io ne dico sempre tante Allora Vediamo un po' Se carichiamo E se no Mi tocca fare altro Devo leggere 765 Fatemi vedere Se no mi tocca fare Una cosa un po' diversa Ok 765 Quindi mi tocca Forse usare questa Non è un problema Perché non fa cazzo Di danno E 895 Ok È un bel problema Allora Liberiamoci di un po' Di cose Questo via 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 Stiamo attenti Va là Che c'è troppa Roba buona Qua Ok Questo si va via Che se ne frega Questo va via No mi raccomando Basta Vediamo bene Meglio guardare Perché insomma Non voglio fare il backup E quindi Andiamo a fare Un po' di stragi Tanti insomma Non ci vedono Siamo invisibili Chi se ne fregola Dai Alla fine Ho tanta Tanta forza Me ne sbattano Chi marroni Eccoci qua Ok Non è un problema Non è un problema Scusi Dove mi volete Un attico Dobbiamo caricare Tutta sta roba qua Quanto mancherà Non lo so Adesso Dobbiamo caricare Due Però insomma Cioè Praticamente Non dico Che li one shotiamo Però insomma Ci manca Veramente poco Sì Alcuni li one shotiamo Proprio Quindi insomma Certo Se avessi fatto La mom sparm La mom farm Vado lì Spacco dei frettuti Tanti saluti Però insomma C'è tanta di quella gente Qui Vedete Uno è già carico Perfetto C'è voi Mi si ho preso Uno spinto Oh salve signor Lì perché lei esplode Eccoci qua Ok Perfetto Direi che ci siamo quasi Dai non vi preoccupate Abbiamo finito Così Opla Ho preso uno sprinto Esagerato Proprio Ci siamo messi Per vedere Direi che siamo carichi No quasi Dai Vediamo un altro po' A te sei quello speciale Insomma Nel senso Ok Dovremmo essere A 64 Uno non lo è ancora 63 e 80 Quanto cazzo ci mette a caricarsi 63 e 60 Non si carica Vediamo un po' Perché non ho mica capito Vai 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 3 e 10 Ok Penso che più di questo Non carichi Che adesso siamo a posto Ok Oh ma mi ha dato anche tante Ah ecco È perché effettivamente È quello che caricava Benissimo Allora togliamoci dai marroni Un po' di roba Questo 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 Adesso ci guardo Prima di darlo ok Perché Non ho fatto tante Di caccate nella vita Dite uno di più o di meno Non so Nel senso Ok Guardiamoci Non ho messo niente di particolare Lascia qua Questo lo deve tenere Questo lo deve tenere Dovrei aver fatto tutto bene Ok Torniamo a casa Andiamo a casa Qui siamo a posto Così il prossimo episodio Facciamo quello che dovevamo fare Non vi preoccupate Tac Oh Sono contento Dai Dai Facciamo che ci salutiamo qui Ragazzi per questo video è tutto Il video come al solito Lasciamo un like In commento Se vi piacerebbe di farmi appunto sapere Cosa vi è pensato E per il momento Avete un saluto a Shiba Ciao ciao